Sul miglio, Black in Black, Blu di Giri Falco, Blu di Mary, Big Moon, Basciata dai Fonte e Belen Hall Fass. Sette, dopo il forfè di Brezza Pura, mezzo meccanico in movimento. Si giocano questo criterium partenopeo, filli. Un po' arretrato, Blu di Giri Falco, poi gradatamente VP prende le ali della macchina. Vi ricordo, redini lunghe, Andrea Savarese, Presidente, Stefano Sedia, parte piano Basciata Fonte. Via la macchina in velocità, chiusura. La Belen, a largo di tutti, super partenza, tenta di andare lungo la corda nei confronti di Blu di Mary con l'errore di Blu di Mary. E così la Belen al comando, al comandamento del lancio in 13 e 2. E così Belen guida liberamente al completamento della prima curva. I cavalli e i cavalli si presentano davanti alle tribune. Viene via Big Moon, quarto iniziale, passato in 29-1. No, Big Moon si fa spazio, parcheggia, poi Blu di Giri Falco e l'1 di Benedict Tragall. Lontano, fuori corsa, Blu di Mary. Tira i remi in barca Antonio Di Nardo con la targata All Fast. E completi i 600 in 44 e 6. E le cavalli affrontano la penultima curva con Belen or Fast che può moderare l'andatura a piacimento o quasi. Completi il mezzo miglio in un minuto e un po' di spiccioli. Le cavalli affrontano il penultimo rettilineo. A largo viene via Abbasciata dai Font, ma è ancora dietro, mentre la Belen controlla the situation al chilometro in 1-15-1. 500 alla meta. Allunga Belen, mantiene il comando, si affaccia invece e viene via Big Moon per anticipare Blu di Giri Falco. Frazioni in 14 e mezzo, 1-29-6, tre quarti di miglio. Allunga e si distende la Belen, prende netto vantaggio la Conway Hall di Casar Gragnaniello. Retta d'arrivo, Belen sostenuta al comando. Poi Big Moon e Blu di Giri Falco, viene via anche Black in Black. Belen in vantaggio, mancano ancora 100 metri, mantiene il comando Belen. Tony, 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 Tony Young, l'avvocato Gragnaniello con la Belen. Belen, che anche se non è la vera Belen, è una grande cavalla. 1-59-6, 1-14-8. Cost to cost di questa Belen, che rimane imbattuta. Due corse, due primi, niente male. Ma bisogna dire anche la guida di Antonio Di Nardo, sempre ispirato nelle sue interpretation. Essenziale e fondamentale. Vedete l'arrivo di Belen che si afferma nettamente, mentre sul palo Black in Black batte Blu di Giri Falco. Che sempre attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, poiché l'ordine d'arrivo lo fa la giuria, il giudice d'arrivo, ma non il sottoscritto. Per il momento, Belen All-Faz è giunta prima.